Ancora sopra mille nuovi casi di covid in Sicilia, aumenta il numero dei conteggiati nelle scuole. Sono 580 le classi in didattica a distanza. Musumeci, Natale tranquillo, ma no a grandi tavolate. Giuliana Miciche. Sono 1028 i nuovi casi di covid in Sicilia a fronte di 21.717 tamponi processati. Il tasso di positività aumenta al 4,7%. La regione è al settimo posto per nuovi contagi giornalieri in Italia. Gli attuali positivi sono 16.018 con un aumento di 714 casi. I guariti sono 308. Le vittime sono state 6 per un totale dei decessi a 7.282. Negli ospedali ricoverati ordinari sono 435, 35 in più. E quelli in terapia intensiva sono 48. 4 in più. Ecco la distribuzione dei nuovi contagiati tra le province. Palermo 186, Catania 177, Messina 354, Siracusa 101, Ragusa 42, Trapani 69, Caltanissetta 65, Agrigento 22 ed Enna 12. L'Istituto Superiore della Sanità ha reso noto ciò che è emerso dalla ricerca scientifica che è costantemente in aggiornamento a fronte di un virus sconosciuto fino al 2019. Dunque, a 5 mesi dalla seconda iniezione, l'efficacia del vaccino nel prevenire il Covid scende dal 74% al 39% e ciò testimonia l'importanza della terza dose. E resta invece alta, al 93%, la copertura da forme severe della malattia. E poi, il rischio di morte per chi non si è vaccinato è 16,6 volte superiore rispetto a chi ha voluto la terza dose. Segnalato inoltre un incremento dell'incidenza del virus nei bambini da 0 a 9 anni a valori superiori a 250 casi per 100.000 abitanti. Nel frattempo il Covid avanza in tutta Italia e sono diverse le regioni che rischiano di colorarsi presto in giallo. Anche le scuole risentono di tale situazione e sempre più sono costrette a ricorrere alla DAD, la didattica distanza. In Sicilia il dato è in aumento del 62%, interi comuni hanno chiuso gli istituti. Oltre ai casi già noti di Petralia Soprana e Roccamena in provincia di Palermo, sono in corso valutazioni anche a San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento, Palermo e Ispica. E poi vi sono delle chiusure parziali di alcuni istituti in sanificazione come ad Agrigento. Al momento in tutta l'isola le classi in didattica distanza sono aumentate fino a 580, con una crescita di alunni positivi del 49%. Gli studenti maggiormente colpiti sono quelli delle scuole medie con più 72%, seguiti da quelli delle elementari con più 52% e quelli delle superiori con più 32%. Tra i docenti il massimo aumento si registra alle superiori con un più 45% di contagiati. Ed ancora in occasione delle festività natalizie il presidente della regione, Nello Musumeci, prospetta. In questo momento siamo lontani dalla zona emergenziale, stiamo lavorando sulle terze dosi e sulla prima dose. Questo è il lavoro più importante, mi auguro e auguro a tutti di passare un Natale sereno. Non ci possiamo permettere il lusso di chiudere gli esercizi commerciali, sarebbe un disastro. Il Natale può essere tranquillo con i nostri cari, senza organizzare grandi tavolate. Lo faremo quando la situazione ce lo permetterà. Ha il compito di disciplinare l'attività sanitaria.